Come sapete, gli horror che arrivano al cinema, io me li guardo, quasi tutti. Però con questo L'Esorcista del Papa, ammetto che avevo tanta paura, ma proprio tanta 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 paura di andarlo a vedere. Infatti ci ho messo qualche giorno, prima di decidermi di vedere questo film. Ovviamente siamo davanti a un film sulla possessione, L'Esorcista che deve esorcizzare. Solite cose, raga, solite cose, ma già dal titolo L'Esorcista del Papa ti puoi immaginare una cosa del genere. Il film parte con il Papa, è il Papa, scusatemi, L'Esorcista, interpretato dal grande Russell Crowe italiano, che arriva sul posto dove deve effettuare l'esorcismo, a Tropea, in Vespa. Ora, al di là che il film appunto è pieno, ma proprio pieno di stereotipi, non solo del genere horror, ma anche di stereotipi italiani, Russell Crowe, il suo personaggio, tirerà fuori, tira fuori delle perle inimmaginabili. Ma questo prete va in giro per l'Italia, dovunque, con la sua Vespa. E quando poi il film si sposta in Spagna, dal punto di vista delle ambientazioni, questo prete arriva in Spagna, sul nuovo luogo dove deve fare il nuovo esorcismo, sempre con la stessa Vespa. Quindi noi possiamo immaginare che lui abbia fatto tutto il viaggio dall'Italia alla Spagna, con la stessa Vespa, in Vespa, praticamente. Ma al di là di questo, parliamo brevemente della storia. Come dicevo prima, è una storia sulla, classica sulla possessione. Cioè il demone, che fra l'altro in questo caso, sono particolarmente legato al demone di questo, film, la storia è prevedibile, piena di stereotipi del genere horror. Non c'è assolutamente nulla di nuovo e di originale. Ovviamente hanno preso, hanno messo insieme tutti gli stereotipi dell'horror. E anche sugli italiani, che potevano trovare in giro, l'hanno messo insieme e ci hanno fatto sto film. Come dicevo prima, il prete, interpretato da Russell Crowe, tira fuori delle perle di saggezza, delle battute veramente che io sono rimasto a bocca aperta. Ad esempio, una di queste grandi battute è Qual è uno dei segni di possessione? Risponde il prete, o comunque uno dei presenti, parlare inglese. O mentre il prete si fa la sua chiacchierata con Satana, perché nel film ci sono delle parti in cui Russell Crowe si siede e inizia a chiacchierare col diavolo, come se fosse, come se stesse, che ne so, al bar fuori casa. Però vabbè, prendendosi il caffè. E il prete, il diavolo, gli chiede, o comunque il demone, gli chiede qualcosa e il prete risponde, una delle mie più grandi paure è che la Coppa, la Francia, vinca la Coppa del Mondo. Ora, il problema qual è? È che hanno voluto dare a questo personaggio un taglio comico, un taglio ironico. Il problema è che questo taglio ironico, molto marvelliato, tanto è vero che per me questo film è praticamente un film della Marvel, con la religione. Il problema è che questo taglio comico, oltre a smorzare le atmosfere, quel poco di atmosfere che si creano nel film, associato a questo taglio comico, questa comicità associata a un prete che dovrebbe compiere un esorcismo, è ridicolo! È ridicolo così com'è ridicolo Russell Crowe, che cerca di rifare, praticamente, dal punto di vista di recitazione, nel gladiatore, nei panni di un prete. Ora, Russell Crowe è bravo a fare, appunto, quei personaggi in cui sembra sempre incazzato, sembra minaccioso. Ecco, è un attore che ha lo sguardo perfetto per minacciare. In questo caso, tu non mi devi minacciare il diavolo. Ci sono delle scene all'interno del film in cui c'è uno scambio tra lui e il demone, in cui sembra che il personaggio voglia minacciare il diavolo. Ma è ridicolo com'è atteggiamento. Quindi, anche Russell Crowe in questo ruolo, per quanto mi riguarda, non c'entra un cazzo. E mi dispiace per Russell Crowe, perché se messa a fare film come questi, probabilmente ha bisogno di soldi, non lo so. Infatti, per quanto mi riguarda l'esorcista, il protagonista di questo film, che dovrebbe essere, appunto, il personaggio principale, comunque, il super protagonista, è un pagliaccio, perché dovrebbe far ridere, cerca di far ridere, ed è solo ridicolo, e cerca di fare il gladiatore contro i demoni, contro l'inferno. Una cosa. L'ironia, come dicevo, è molto marvelliana. E, in questo caso, non c'entra assolutamente nulla in un film horror sulla ossessione. A un certo punto, verso la fine, il film diventa, appunto, proprio un film marvel, con i supereroi, i due preti che si lanciano lì, i crocifissi a volo, lo prendono, lo mettono davanti al villain che esplode. Ma, è un film horror sulla ossessione. Ma voi me l'avete trasformato in un film sui supereroi e sui mostri che scoppiano? Ma che cosa? Cosa ho visto alla fine di questo film? Io mi stavo sbellicando dalle risate, non perché mi stava piacendo, ma perché non credevo ai miei occhi per quello che stavo vedendo. Il problema qual è? E che, ovviamente, il film, una volta che la possessione è avvenuta all'inizio, come sempre, il tutto, il rituale per l'esorcismo è stato effettuato, l'esorcismo viene effettuato, appunto, verso la fine. Dato che l'esorcismo non raggiunge questo grande climax, è molto banale anche perché, registicamente, anche sotto quel punto di vista, il film è banalissimo, ci sono sempre le stesse cose. Ossa che si girano, colli che si girano a 360 gradi, voce che si deforma, sempre le stesse cose, non c'è nulla di nuovo. Dato che il tutto è molto banale, l'esorcismo finale non raggiunge questo gran climax, e quindi ci hanno infilato il finale alla Marvel, il finale marvelliano, con i preti supereroi contro il villa in demone, e credono di portare a casa il lavoro, hanno creduto di portare a casa un buon finale. In realtà no, perché il finale è la cosa più ridicola del film. Quindi io chiedo a Russell Crowe, ma che cazzo mi fai? Ma come fai a prendere parte a un film del genere? Io ho capito che sei anziano, che ormai stai per abbandonare il mondo della recitazione, ho capito che magari avevi bisogno di soldi, ma prendere parte a una roba del genere, che fra l'altro attira persone al cinema solo perché ci sei tu. Quindi in questo caso, raga, tu non possiamo dare la colpa alla gente che va a vedere questo film. Perché se la gente vede che c'è Russell Crowe in un film horror, solo va a vedere, pensando chissà cosa. Poi magari vedi il titolo l'esorcista del pub, pensa, non sono proprio sicuro di andarmi a vedere questo film. Quello che ho pensato io, Russell Crowe, andiamoci a vedere questo film, l'esorcista del pub, a cazzarola, forse è meglio che mi vado a vedere, me lo sono andato a vedere, e ovviamente mi sono incazzato. Che cazzo mi fai Russell Crowe? Ma come ti viene in mente di partecipare a un film del genere? Ma il suo agente, ma come ti viene in mente di fargli fare un film del genere? Quindi la colpa non è del pubblico, e nemmeno della produzione che ha fatto sto film. È di Russell Crowe, perché se la gente andrà a vedere sto film, è perché ci sta lui. Altrimenti buona parte delle persone che andranno, che sono andate, non si sarebbero andate a vedere l'ennesimo film sull'esorcismo. Quindi questo film è una merda, sia perché è ridicolo, sia perché non apporta nulla di originale al genere. Quindi se l'avete visto, mi dispiace, se già l'avete visto, se invece ancora non l'avete visto, evitatelo come la morte. Detto questo, io vi saluto, a presto, ciao!